Siamo qui per ovviamente andare a vedere il trailer della nuova espansione Ultimate Colosseum, vabbè l'ho già visto però lo commentiamo assieme, ovviamente c'è la solita scritta di Sai Games, l'animazione rimane sempre la stessa, seppur adesso abbiamo visto qualche immagine di Verdant Conflict, credo che richiami sempre l'espansione precedente in ogni caso, tipo in Verdant Conflict richiamava Albert e quindi Rebirth of Glory, vabbè comunque abbassiamo sicuramente il volume, abbiamo come dire questa che potrebbe anche essere l'artwork di una carta, cioè potrebbe essere tipo una bronzo che si chiama Folla in Delirio, così, no ovviamente sto scherzando ma neanche così tanto, e comunque l'espansione è basata su un'ipotetica arena in cui vengono richiamati diversi personaggi da diversi mondi, quindi una sorta di Isekai. Niente, poi scendiamo più nello specifico. Questa è l'arena, tra l'altro anche una carta e credo la prima che andremo a giudicare, cioè potrebbe effettivamente essere questa la carta principale dell'espansione, ovvero una gold e non una dorata. E qua ci sono i vari protagonisti, ovvero come Yomen abbiamo una leggendaria per classe e non mi sembra di aver visto leggendarie neutrali, tra l'altro, quindi saranno solo otto personaggi, mentre invece i nomi ne erano per esempio dieci. E vabbè, poi vediamo tutti i nomi nella pagina del sito. Vabbè, qualche classe l'avete già potuto intuire, e qua c'è Pecorin, a caso, perché devono fare la collaborazione con Princess Connect e quindi ci hanno messo Pecorin come leggendaria giocabile. E vabbè. Questa invece è la rune che sembrerebbe essere più importante degli altri, ma non è detto, non sappiamo ancora la lore. Tra l'altro la storia dovrebbe proseguire sulla falsa riga di Verdant Conflict, ovvero, cioè, questa espansione non dovrebbe centrare nulla con la storia, ma dovremmo avere la fine di Verdant Conflict e l'inizio di un nuovo capitolo. E se seguono davvero un certo schema, la storia che uscirà con la mini-espansione di questo Ultimate Colosseum riguarderà l'espansione successiva. Un po' come è successo per Verdant Conflict, che era per esempio uscita con Rebirth of Glory, o meglio, con la mini di Rebirth of Glory. E vabbè, quindi guardiamo questi personaggi. Abbiamo Limaga, che è la leggendaria Forest, Kagemitsu, che è la leggendaria Sword, Kwon, che è la leggendaria Rune, Gario, che è la leggendaria Dragon, tra l'altro lui è veramente brutto. Ginsetsu, che è la leggendaria Shadow, Aragaoi, che è la leggendaria Blood, Wilbert, che è la leggendaria Heaven, lo trovo veramente ridicolo lui come personaggio. E Karula, che invece è molto molto figo. Ecco, se io dovessi scegliere a livello di estetica dei personaggi che vorrei giocare, partirei dal fatto che Karula è fighissimo e quindi mi piacerebbe tantissimo che entri in un mazzo tier. Anche Aragawi mi piace. Ginsetsu, sì, ok, solo perché Shadow, ma in realtà è abbastanza figa come carta, come artwork. Kwon, molto bella, però essendo Rune non credo che sia fatta per me. E poi, beh, anche Limaga, cioè sembra un po' una Valkyria. Comunque, andiamo subito a parlare di Colosseum on high, che dovrebbe essere Colosseo nell'alto. Ora, la traduzione probabilmente è erratissima perché non so il contesto di questa carta. Però è la gold neutrale che vi dicevo che dà il nome un po' a tutta l'espansione. È un amuleto a 3. Invocation, quindi richiamo. All'inizio, no, sì, all'inizio, magari. Alla fine del tuo turno, se hai almeno 4 playpoint e non c'è un Colosseo in gioco, invoca questa carta. Bene. Ostentazione, cioè in realtà è un po' quello che fa Goldegna. Ostentazione, se un altro alleato Colosseo è in gioco, pesca due carte e distrugge questo amuleto. Insomma, è una sorta di concentrazione, ovvero la spell rune tre mana pesca due. Io l'avrei reso leggermente più potente. Finché questo amuleto non lascia il gioco, entrambi lì daranno il seguente effetto. Quando un follower entra in gioco per la prima volta ogni turno, guadagna più 2 più 2 rush. Il problema di questa carta è che dai subito vantaggio all'avversario. Che cosa voglio dire? Tu, dando subito vantaggio all'avversario, devi poi trovarti a contestare i suoi pezzi. Quindi, sicuramente non lo giochiamo in deck midrange, tipo Swarcraft non lo vuole, Swarcraft deve sciamare in board, non mettere Colosseo nel cielo. A meno che non nasca un archetipo Storm, perché questa carta è indubbiamente molto molto forte con le carte Storm. Quindi magari sarà forte con la leggendaria. Potrebbe essere... la leggendaria rune, scusate, non l'ho specificato. Potrebbe essere forte in rune semplicemente perché è un mazzo di stampo control che potrebbe arrivare a far danni solo con gli Storm. La leggendaria nuova evoca Storm. Poi abbiamo il 2-2 Storm che si sconta con Spellboost. Abbiamo il 3-5 Storm che si sconta sempre con Spellboost. No, in realtà non funziona quella leggendaria rune nuova, perché lei di base non ha Storm. I suoi token lo hanno. Quindi potrebbe essere un attimino un problema. Dare rush all'avversario. In realtà, se si tratta di un control, il nostro mazzo, direi che non è così tanto fondamentale. Cioè, dobbiamo avere ovviamente modo di rimuovere queste stats maggiorate che diamo all'oppo. E dobbiamo poter compensare questo turno 4 passivo. Poi, un deck che è morto totalmente, che è il Goldegna in Unlimited, potrebbe usufruire di questa carta? Cioè, noi, turno 4, lo facciamo vuoto, ma ci esce Goldegna e ci esce il Colosseo. E poi tutti i nostri Minon, avendo Storm, usufruiscono di questa carta. Sì, sì, un po' forzato lo vedo. Non lo vedo come tier 1, cioè poi magari mi sbaglio, però ci potrebbe stare. Quindi, di per sé, secondo me, la carta non è buona, perché, ragazzi, cioè, fare un turno così passivo e poi andare a favorire subito l'avversario non è bello. Però, in una sorta, ve l'ho detto, di control con degli Storm può avere il suo significato. Io comunque le darei due stelle, perché sì, può vedere gioco, ma è troppo limitata a praticamente solo due mazzi, perché non mi viene in mente nient'altro. Poi vediamo con le carte future che cosa spoilereranno. Poi abbiamo, ve l'ho detto, la leggendaria rune Kuon, founder of Onimiodo, 15 mana 5-5, a guardia no. Ostentazione, evoca, celestial Shinigami, demonic Shikigami, ah no, Shikigami, non Shinigami, demonic Shikigami e paper Shikigami. Quando un alleato, avete capito, entra in gioco dagli Storm, però da Storm solo a token numero 2 e token numero 3, quindi demonic e paper. Quindi il celestial no. Ok. Sottrai 0 al costo di questa carta, spell boost, sottrai 1 in più. Chiaramente questa secondo me non è una carta che è pensata per entrare a costo 0, cioè potrebbe anche essere, ma non credo che riusciamo a spell boostarla così tanto, e credo che sia una carta che qualora venisse trovata in late potrebbe essere veramente troppo pesante. però vediamo un po' i suoi token, se ci danno qualche speranza oppure no. Allora, token no, no, non è questo il primo. Cioè il primo è il celestial. Allora, celestial che paradossalmente è il token leggendario. Ok, è un 4 mana 4-5 world e capisco perché non gli dia Storm. Cioè, ci sta. Ci sta. 4 mana 4-5 Storm sarebbe un po' troppo forte da avere a costo 0 con quella carta. Lastward spell boosta tutte le carte nella tua mano tre volte e inoltre anche guardia. Molto interessante, molto interessante in una sorta di spell boost. Potrebbe veder gioco anche in unlimited questa carta, cioè con ginger magari, non lo so. Cioè bisogna vedere se rallentò meno il meta. Poi Demonic Shikigami è un 3 mana 3-3. Lastward spell boosta le carte nella mano. Solo una volta, pensavo fosse due. E poi c'è il Paper Shikigami che invece spell boosta sempre le carte nella nostra mano due volte. Cioè una volta, scusate. Quindi in pratica noi mettiamo uno spell boost di 5 sul terreno. Quindi è una sorta di Daria che però non ci fa pescare. Cioè comunque a livello di stats in body ci sta, eh. Cioè 5-5, evoco un 4-5, evoco un 3-3 ed evoco un 1-3. Cioè se noi riuscissimo anche a far scendere questa carta magari a costo 7 e facciamo un turno della madonna. Cioè io non saprei come valutarla. Comunque, perché ve l'ho detto, in late fa totalmente gagare. Se non riusciamo a spellbussarla, è merda. Però se invece riusciamo nel nostro intento e magari riusciamo ad airollare e tirarla di T6, cioè probabilmente abbiamo vinto la partita. Ragazzi, è oggettivamente forte quello che fa. Poi più che altro dà anche Storm a quei due token che abbiamo visto prima, i token bronzo. Non lo so, non lo so, mi sembra da 3 stelle e mezzo. Cioè poi magari il mazzo in cui viene giocata non sarà tier, però ci sta, ci sta. Passiamo oltre. Anzi, ho paura di questa carta più che altro, perché si tratta di una carta run basata sull'Irol e basata sullo spellbuss. Aiuto. Poi abbiamo Shikigami Summons. Ok, quindi gli Shikigami saranno presenti in questo nuovo archetipo spellbuss. Summon a paper Shikigami a costo 2. Quindi 2 mana evoca un 1-3 che morendo ci evoca, cioè che morendo ci spellbusta la mano. Ok. Se il nostro deck ha 20 carte o meno evochiamo Demonic Shikigami che invece è a 2 mana un 3-3. Ottimo anche lui. Quindi in pratica il mazzo sicuramente dovrà pescare parecchio e che dire, questo è un turno 2 forte. Cioè oggettivamente è un turno 2 forte. Turno 2 metto un 1-3, quando muore quell'1-3 mi spellbusto la mano. È vero, forse in Irly non abbiamo proprio una mano così tanto leggera. Ma questa carta è giocabile anche in Daria. Cioè in Daria perché non metterla? Semplicemente ci aiuta innanzitutto a mettere board in Irly game e poi ci spellbusta i minion con Storm. Cioè secondo me questa carta è boh da 4 stelle. Cioè veramente molto forte. E passerei alla prossima. Pecorin, Packish Princess, 3 mana 3-2, Swordcraft Commander, Rush. Ostentazione, Union Burst che è la nuova meccanica che adesso vi spiego, guadagna più 3 più 3 e fai 5 danni a un follower nemico. Alla fine del tuo turno guadagna più 0 più 1. Allora questo Union Burst è una meccanica che si attiva dal decimo turno in poi. Il punto è che si sconta ogni volta che tiriamo un'evoluzione. Quindi volendo questa carta può anche scendere full value a turno 7. Domanda. Su Warcraft è un mazzo che si basa sulle evoluzioni? Eh sì, è parecchio anche. Cioè si gioca persino il Front Guard General. Quindi perché non dovremmo giocare Pecorin? Cioè di per sé abbiamo un 3 mana 3-2 Rush. E Jaffi qui è forte. Cioè è ottimo per fare i trade. Alla fine del turno guadagna più 0 più 1. Quindi è come se fosse una sorta di 3-3 Rush. Qualora rimanesse in vita ovviamente perché se invece fosse stato di base 3-3 Rush sarebbe stata rotta. E poi tirata full value è fortissima. Cioè diventa 6-5 Rush che fa 5 danni a un follower nemico. A 3 mana. Molto molto buona. E io penso che non sia neanche così tanto difficile utilizzare la full value in un Levin. Quindi secondo me questa carta è difficile da valutare comunque. Io sarei tendente a dare 4 stelle perché la vedo veramente forte. Ma è anche vero che nelle ultime espansioni ci hanno abituato a un power level devastante. Vabbè 4 stelle direi che ci può stare. Che poi potenzialmente in realtà anche lei a cui ho dato 3 stelle e mezzo potrebbe essere tranquillamente da 4. Non lo so. Vediamo. Poi abbiamo la delusione. Shinobu. Mausoleum medium. Shadowcraft 4 mana 4-3. Allora partiamo dal presupposto che ruota un turno 4 molto forte per Shadow che è Osiride. Osiride 4 mana 4-3. In evo diventa un 6-5 e ha come effetto spirare necromancia 5 evoca un drop a 3 e un drop a 1. In realtà attiva necromancia 3 e necromancia 1. Quindi volendo può anche evocare un drop a 2. Però non è questo quello che mi interessa. Comunque è un minion che mette un casino di body. Poi lui attaccando fa due ombre e in ostentazione da un nostro alleato l'effetto spirare pesca una carta. Quindi fa da card draw, genera board. È molto forte Osiride. È vero non ha visto gioco fino alla scorsa espansione però di base è una carta grossa. Poi abbiamo un'altra carta in rotation. Zebet. 4 mana 4-4. Evolve evoca uno dei suoi token. E i suoi token sono forti. Sono token che in genere costano 4. Un 4-3 in stealth. 3-2 rush bane. 2-3 storm ruba vita. Questa invece che cosa fa in evolve? Evoca un token che è banalmente un 2 mana 2-1 rush last word dai più 1 più 1 a 2 dei tuoi follower alleati. Quindi in teoria questa carta noi l'andiamo a giocare in un deck token. Il problema è che non può esistere un deck token finché ci sono oe rotte come Ian e come Kel. È un po' un problema questa cosa qua. Però lei ha anche un effetto union burst. L'effetto union burst di Pecorin era molto molto forte. Quindi magari lei in un evolve shadowcraft potrebbe vedere gioco. Fai 4 danni a un follower nemico. Poi se il follower selezionato aveva 4 difesa o meno fai 2 danni a tutti i nemici. Ok sì effettivamente la traduzione che avevano proposto era sbagliata. C'era scritto se il difensore selezionato aveva 2 o meno di salute, cioè in realtà non 2 o meno ma meno di 2 proprio, facevi 2 danni a tutta la board e neanche al leader avversario. E invece vista così è un po' più forte. Cioè nel senso in un evolve secondo me ci può stare come carta. Io ora spero che shadowcraft non venga visto in chiave evolve però però boh cioè nel senso fare 4 danni a un nemico con 3 di salute e poi fare 2 danni a tutta la board è veramente fighissimo. Il problema è che questa carta in shadow che turno scende full value. Cioè io non lo so non sarei tanto propenso a giocare Jaffnar e Knicker solo per dare value a questa carta. Non lo so sia un fanfare che un evolve. Sì ci può stare però però boh io oltre le due stelle e mezzo non le darei. Cioè c'è qualcosa che non mi convince. Oh poi magari mi sbaglio e il mazzo in cui viene inserita è fortissimo anche perché abbiamo visto veramente supporti su supporti all'evolve shadowcraft. Quindi non nego il fatto che una lista del genere possa vedere gioco anche con la leggendaria della mini espansione. Io ho detto che era totale merda però se l'archetipo comincia ad aver senso lui lo giochiamo per forza e lei idem stessa cosa. Però di base le carte che compongono questo mazzo non sono forti. Poi magari ve l'ho detto ha una sinergia tale che gli permette di essere molto più che interessante. Poi abbiamo Shinobu leader. In realtà non so se questa venga data con le rupee oppure possa essere trovata ma so di per certo che voi potete trovare questa Kyoka che è sempre una carta di Princess Connect credo come leader. Quindi non ci saranno i leader che abbiamo votato noi. Quindi non ci sarà Apis, non ci sarà Lishenna, non ci sarà Garmill eccetera ma ci saranno due carte di Princess Connect. Kyoka, premana 3-3, runcraft, ostentazione, spellboost alle carte nella tua mano, union burst, fai 7 danni a un follower nemico e poi fai 7 danni al leader nemico. Esti gran cazzi. Cioè ok va bene, runcraft, spellboost non è un mazzo che evolva così tanto però questa carta è in late e diventa una rimozione della madonna. Evolve spellboosta le carte nella tua mano e poi fai due danni a un follower nemico e si prende anche un bel full stats. Secondo me questa carta vede gioco anche in Daria, in Unlimited. Vede gioco in un ipotetico spellboost di cui stavamo parlando prima con Kwon. Cioè è veramente molto forte, ha una versatilità incredibile. Cioè entra spellboosta quindi non è un drop a 3 morto e in Evolve spellboosta. Cioè è il nuovo gufo. Quattro stelle? Cioè mi sembra che stiano dando veramente dei potenziamenti forti a run, ma molto forti. Poi oh, manca ancora tutta l'espansione da rivelare, però avete capito che cosa intendo. Quindi direi che per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, noi ci rivediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!